buongiorno a tutti buongiorno amici ben ritrovati in questo nuovo video oggi un telefono della marca asus il modello esatto lo trovate dietro sulla scatola Z00UD ZD551KL e il modello è un Zenfone 2 selfie con il problema del vetro rotto una bella botta bene ragazzi seguite il video e poi ci vediamo alla fine con i saluti grazie a tutti 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 ecco grazie a tutti 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 grazie a tutti